I finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di beni immobili per un valore complessivo di 470.000 euro nei confronti di tre soggetti responsabili a vario titolo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La misura cautelare eseguita giunge al termine di complesse indagini svolte dalla Finanza e dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso delle indagini gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno appurato che la società di costruzioni in questione si era spogliata per mano del legale rappresentante ed in concorso con la ex consorte con il socio di maggioranza di parte dei beni aziendali attraverso operazioni simulate. Più in particolare gli asset aziendali erano stati trasferiti alla nuova compagna dell'imprenditore in forza di un titolo di credito artatamente creato per questa donna. Con questa operazione la donna era entrata così legittimamente in possesso degli asset aziendali conferendoli subito dopo nel patrimonio di un trust amministrativo dello stesso imprenditore edile. Con questa manovra sono state inibite le procedure di riscossione coattiva delle imposte. E' scattato così il decreto di sequestro dei beni immobili illecitamente trasferiti per un valore di 470 mila euro. I lavoratori dell'Acqua Santa Croce sono ormai destinatari di licenziamento. Ad affermarlo è Franco Pescara, segretario regionale della FaiCISL, che richiama l'azienda della regione Abruzzo alle proprie responsabilità. Dopo le vicissitudini, il bando del 2015, la concessione provvisoria e definitiva spiega a Pescara la regione ha revocato il 4 ottobre 2015 la concessione alla società Santa Croce. Ad un anno di distanza però non c'è ancora traccia del nuovo bando, più e più volte annunciato. La FaiCISL sottolinea che gli obiettivi sindacali, ovvero mantenere in forza gli attuali 75 dipendenti al momento dell'esito della giudicazione e della concessione, sono definitivamente naufragati proprio l'8 settembre scorso con l'avvio della mobilità da parte dell'azienda. Secondo quanto messo nero su bianco dalla società, sottolinea Pescara, le motivazioni di questa decisione sono legate proprio alla mancata autorizzazione a prelevare l'acqua per l'imbottigliamento dalle sorgenti di canistro. Ma non si comprende come, sottolinea la nota del sindacato, sebbene la regione abbia negato la proroga, si continua ad imbottigliare nonostante siano state avviate le procedure di licenziamento. La FaiCISL manifesta dunque forti dubbi sul futuro dei 75 dipendenti e chiede un chiarimento immediato da parte della regione, oltre all'emanazione del bando per l'imbottigliamento dell'acqua Santa Croce. Un'avvertenza, conclude Pescara, che si trascina ormai nel 2009 tra cassa integrazione e mobilità e contratti di solidarietà e al momento senza alcuna garanzia, proprio per i lavoratori. L'Università dell'Aquila è quasi tornata alle origini, abbandonando i capannoni industriali del post-sisma. A dirlo con una certa soddisfazione è la rettrice Paola Emberardi, che a sette anni dal terremoto traccia una ricognizione degli edifici. Con l'acquisizione del demanio della struttura della zona di Acqua Santa, anche economie a posto, restano da definire alcune situazioni in centro, Palazzo Carli e Ospedale San Salvatore, ma si è tornati finalmente nelle tre aree. Ci rimane ovviamente da fare un po' di cose al centro storico importanti, che sono Palazzo Carli e l'ex San Salvatore, per i quali abbiamo progetti in corso. Quindi speriamo di arrivare per questi due elementi, in tempi relativamente brevi, a definire sia l'accordo con gli altri soggetti che naturalmente con il Comune, per poi andare a cercare finanziamenti pubblici per questi due enormi aggregati. Per quanto riguarda Roio, a breve verranno inaugurati nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria, mentre per il Palazzo Vecchio di Roio, già finanziato, i lavori hanno subito in ritardo, ma a breve partiranno. Per quanto riguarda Roio, abbiamo quasi completato i nuovi laboratori, che sono molto belli, li inaugureremo, vorrete anche lì e li vedrete. Abbiamo completato tutta la parte didattica, oramai non c'è più nulla da fare sulla didattica, ci rimane il vecchio edificio, per il quale però è tutto completo e si sta in attesa che il proprietorato bandisca la gara. Abbiamo avuto un piccolo ritardo con il nuovo codice degli appalti che purtroppo ha fatto rimandare la gara perché richiedeva un progetto esecutivo, però siamo agli sgoccioli, quello è completamente finanziato e partirà e sarà il grande cantiere laboratorio per gli studenti di ingegneria di Roio. Perché nella gara noi chiediamo anche nel bando di gara che ci siano offerte migliorative che facciano fruire questo enorme cantiere come un laboratorio anche didattico per tutti gli studenti di ingegneria della nostra università e non solo. Quindi in qualche modo avremo un grande laboratorio a cielo aperto a Roio fra poco. Grazie. Grazie a tutti.